Baraccopoli nelle campagne di Cassibile dopo il sopralluogo dei carabinieri adesso si pensa come risolvere i problemi sanitari e di ordine pubblico l'assessore alle politiche ambientali Coppa fa il punto e annuncia i prossimi interventi. Baraccopoli a Cassibile si parla di questo accampamento di extracomunitari costretti in qualche maniera a trovare alloggio infatti in questi posti di fortuna proprio nelle vicinanze dei lavori nei campi c'è stata un'operazione e ora cosa si pensa di fare proprio in quel luogo e luoghi simili? Sì, il comando provinciale dei carabinieri con i carabinieri di Cassibile stanno organizzando tutta una serie di attività per far sì che questo fenomeno come direbbe cessi. Abbiamo fatto dei sopralluoghi insieme al comando dei carabinieri la scorsa settimana e abbiamo avviato un percorso per definire tutte le attività necessarie per fare cessare il fenomeno appunto. Bisognerà intervenire anche, ancora non è stato fatto del tutto in quei luoghi perché comunque sono costruzioni che vanno in qualche modo portate via? Sì, i problemi sono diversi, c'è un problema di occupazione abusiva di terreni, c'è un problema abbastanza importante igienico-sanitario, ci possono essere evidentemente anche problemi di ordine pubblico però stiamo affrontando con grande attenzione questo problema e credo che insomma nelle prossime settimane si troveranno tutte le soluzioni possibili. Il problema è che persiste anche in altre zone, avete visto un po', ma avete mappato anche se a Siracusa c'è qualche fenomeno simile? Ma diciamo che in zone limitrofe c'è qualcosa di simile ma è molto più limitato, il vero problema è in quell'area anche perché ripeto la presenza mia, la presenza dell'ASPE è necessaria anche perché ci sono problemi igienico-sanitari e bisogna assicurare comunque anche a queste persone diciamo luoghi dignitosi.